Giovedì 16 febbraio ci troviamo nello splendido manto artificiale di Fara San Martino, ecco i nostri ragazzi della categoria giovanissimi di mister Gabriele di Felice che si riscaldano in attesa della gara di recupero contro Valle Aventino, ecco il dirigente del Valle Aventino, signor Domenico Marrone, ecco si riscaldano il blocco dei titolari, numero 3 c'è Cristian, 8 Nicola Perrucci, 7 Gian Leonardo Emanuele Dettolele, 2 Alessio Ceroli, il 10 Michele Daniello, il 4 Guido Colaizzi, il 6 Federico Tucci, l'11 il bomber Goliador e capocannoniere Tei di Mata, dopo abbiamo il numero 9 Gianluca Malbone e il 5 Gabriele... Ecco che si riscaldano sotto la guida, la maestria dei mister di Felice, a quest'altro lato ci sono i ragazzi che partiranno dalla panchina, abbiamo alla nostra sinistra Filippo Ferretti, con numero 17, con numero 14 Luca Rulli, con numero 15 Fabio Masciarelli, con numero 18 Nicolò Dancelo, con numero 16 il grande Karan Singh, dove abbiamo il numero 19 Caporale Emanuele, il numero 1 Matteo Dottavio e il numero 13 Enrico Caporale, questi ragazzi partiranno dalla panchina e in punto c'è Pit Bull, il nostro Lorenzo Cuniberti, un po' acciaccato ma ha voluto seguire i suoi compagni di squadra in questa trasferta a Fara San Martino, aria fresca gli farà bene, ecco vediamo anche l'arbitro dell'incontro, il signor Martelli della Sessione Aria di Lanciano.